Europee di giugno, giovedì, Salvini e Conte a Pesaro, domenica Tagliani a Numana e oggi Renzi a Loreto, sfilata di Big per le elezioni nelle Marche, torna anche a Lischlein il 22 ad Ascoli Piceno. Omicidio-sucidio di Chiaravalle, l'esame autoptico conferma ferite solo sul cranio di Loredana Molinari, nessuna ferita sul corpo del figlio, si attendono ora i risultati completi delle autopsie e degli esami tossicologici. Fumogeni lanciati contro Pullman di tifosi della Re Canatese e di rientro dal match perso contro la VIS, la condanna della società a ragionare sui veri valori dello sport. Aumentano le famiglie a rischio sfratto in Italia, una storia arriva da Ancona all'appello dell'Associazione Asia USB, aiutateci a trovare una nuova casa. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di Etg Marche, in apertura le elezioni europee di giugno che portano una sfilata di Big nelle Marche, in particolare oggi il senatore Matteo Renzi, leader d'Italia Viva, è stato a Loreto, più Europa dice per ritrovare le nostre radici. Continuano gli appuntamenti elettorali in vista del voto per le europee dell'8 e del 9 giugno. Oggi è il turno del leader di Italia Viva e della coalizione Stati Uniti d'Europa, Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio, ha visitato prima la Basilica di Loreto, poi ha incontrato simpatizzanti ed elettori. Senta parto dalla sua visita oggi in un luogo di culto, perché l'Italia e l'Europa in generale devono avere coraggio di ritrovare le loro radici? Perché cancellare le radici non significa essere laici. Laici, come tutti noi siamo, noi giuriamo sulla Costituzione, significa vivere nel rispetto delle opinioni di tutti, delle fedi religiose di tutti, delle libertà di tutti. Ma l'Europa è un'Europa che ha delle radici, ha delle radici greche, delle radici romane, delle radici giudaiche e ha delle radici cristiane. Farlo è possibile aprendo la finestra di casa in qualsiasi regione italiana. Abbiamo scelto Loreto perché è un luogo speciale per la sua bellezza, per tante persone che vi affidano i propri sentimenti di fede e il proprio bisogno di esprimere la fedeltà al proprio culto, ma anche perché Loreto è uno dei punti di riferimento dell'Europa. Allora, noi non ci vergogniamo delle nostre radici, questo vuol dire che poi siamo aperti al dialogo. L'identità non ti nega la possibilità di stare in dialogo con gli altri, l'identità ti consente di aprirti al dialogo con gli altri. Sulle marche conosce la situazione ovviamente anche a livello infrastrutturale, delle criticità ci sono. Come si può affrontare insieme? Perché no anche in Europa? Sulle infrastrutture siamo in presenza di una evidenza, cioè o c'è l'Europa che fa le infrastrutture davvero, oppure rischiamo di perdere competitività. E questo è l'argomento che ancora una volta per la campagna elettorale funziona. Stati Uniti d'Europa significa infrastrutture, Stati Uniti d'Europa significa intelligenza artificiale, Stati Uniti d'Europa significa competitività. Guardate le marche, guardate anche questo territorio delle marche. Noi abbiamo una realtà nella quale se ti chiudi col sovranismo, le aziende che producono e che esportano saltano. Cioè noi abbiamo bisogno degli Stati Uniti d'Europa e dei mercati globali, perché senza mercati globali, ragazzi, non c'è più spazio per nessuno. Ieri invece il presidente di Forza Italia Antonio Tajani è stato a Numana. Siamo europei, si dice, ma qualcosa in Europa va cambiato. Domenica marchigiana per il ministro degli esteri Antonio Tajani, da Ascoli Piceno a Fano ad Ancona con la chiusura serale nella stupenda cornice del Conero a Numana. Da qui Tajani ha lanciato la volata finale di Forza Italia verso le prossime elezioni europee. L'obiettivo per queste elezioni europee e l'obiettivo dopo in Europa, cosa serve? L'obiettivo per queste elezioni europee è arrivare al 10% a livello nazionale. In Europa vogliamo contare di più, l'Europa è fondamentale per noi, ma deve essere corretta, alcune cose devono essere cambiate. Europeisti, sì, ha spiegato Tajani, ma alcune norme devono cambiare a partire da quelle ambientali. C'è spazio poi anche per parlare dei problemi delle marche che passano innanzitutto dal nodo infrastrutture a 14 ferrovia adriatica e poi anche il porto di Ancona. Il porto di Ancona è fondamentale perché questa è una regione industriale, è assurdo che un portacontainer che dovrebbero trasportare i prodotti marchigiani partendo direttamente da Ancona sono soltanto quelli più piccoli, quindi bisogna arrivare fino a Gioia d'Auro e poi ricaricarli su portacontaineri più grandi. Questo fa aumentare i costi, i tempi e quindi riduce la competitività delle imprese marchigiane, quindi bisogna lavorare su questo, bisogna incrementare l'alta velocità e poi il collegamento con il Tirreno e con il porto di Civitavecchia che è il principale porto turistico italiano per quanto riguarda le crociere, quindi io vorrei che si potesse arrivare da Civitavecchia ad Ancona per poter anche far arrivare il maggior numero possibile di turisti. Ci vuole tempo, certamente ne sono la bacchetta magica, però queste sono le idee che abbiamo in testa. E adesso passiamo alla cronaca, brutto incidente ad Ancona in via Martiri della Resistenza, prima delle ore 16 due persone a terra, una donna di 70 anni che stava cercando di attraversare la strada e uno scuterista di 65 anni. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso, tra cui l'ambulanza della Croce Gialla e della Croce Rossa, ad intervenire anche le pattuglie della polizia locale. La donna è stata trasportata all'ospedale con un codice di massima urgenza, così come l'altro ferito. La dinamica dello schianto è in corso di accertamento. Traumi, di cui uno più grave sul cranio di Loredana Molinari. Nessuna lesione invece esterna sul corpo del figlio Maurizio Bucciarelli. Sono i primi risultati dell'esame autoptico sui corpi trovati martedì scorso nell'appartamento in cui i due abitavano a Chiaravalle, madre e figlio 78 anni, lei e 54 lui erano morti da diversi giorni. Si attendono ora i risultati completi delle autopsie e degli esami tossicologici, anche per stabilire se l'uomo abbia eventualmente assunto farmaci o altre sostanze in dose mortale. L'ipotesi principale è quella dell'omicidio-suicidio. Investimento a pedaso, ultimo esempio del problema legato alla violenza giovanile, il punto con la Presidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche, Katia Marilungo. Iniziano sempre con qualche commento sprezzante. La miccia che poi fa esplodere risse da Far West, in cui sempre più spesso i protagonisti sono ragazzi di poco più di 20 anni, se non addirittura minorenni. L'ultimo esempio in ordine di tempo, la violenza consumata sia pedaso venerdì notte, che ha visto fronteggiarsi all'uscita di un bar un gruppo di 50 anni da una parte e di 20 anni dall'altra, e in cui ha perso la vita Giampiero Larivera, 54 anni, investito dall'auto guidata dal suo coetaneo e amico Stefano Asuni. L'uomo, mentre si allontanava con la macchina dai giovani che lo stavano aggredendo, avrebbe travolto il 54enne e un giovane di 24 anni. Quest'ultimo, rimasto ferito, è stato poi trasportato a Torrette e non è in pericolo di vita. Asuni, ora in stato di fermo, deve rispondere di omicidio volontario, tentato omicidio e omissione di soccorso. Gli inquirenti che in questi giorni hanno seguito le indagini hanno a disposizione molti elementi, fra cui le immagini delle telecamere di un'azienda artigianale della zona e soprattutto le testimonianze dei due gruppi che si sono fronteggiati. Ma quello di Pedasus, si diceva, è solo l'ultimo esempio di un fenomeno di violenza giovanile esploso negli ultimi anni. Sicuramente c'è da dire che questi giovani spesso sono stati educati e cresciuti con poche regole, in una condizione post-covid legata anche a momenti di chiusura, in cui gli scenari erano quelli online dove ci si sentiva di poter dirsi tutto e fare di tutto. Il ritorno alla normalità non ha aiutato perché molto probabilmente in tantissimi casi i ragazzi sono diventati senza filtri e quindi reagiscono in maniera a volte impulsiva e con poco controllo anche a degli accadimenti che si potrebbero tranquillamente risolvere con il dialogo. Può capitare che eventi di violenza possano essere in qualche modo legati anche all'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti? Sì, sicuramente il dato è oggettivo. L'aumento di uso di sostanze, sostanze di vario tipo, sostanze anche nuove, è in grandissimo aumento, soprattutto tra i più giovani e anche giovanissimi. E chiaramente sappiamo che l'uso di sostanze, l'alcol e le droghe esasperano un po' i comportamenti impulsivi, aggressivi e quindi anche una possibilità di importante perdita di controllo e quindi questo poi scaturirebbe anche tutti i fenomeni di estrema violenza. Sono stati i momenti di paura quelli vissuti ieri sera a Pesaro su un pullman che trasportava tifosi della Recanatese, tra cui anche famiglie e bambini e ragazzi delle giovanili, dopo la partita di calcio Vis Pesaro-Recanatese a Pesaro. In una stradina laterale dell'autostrada, alcune persone, si presume ultra della Vis, hanno teso un agguato al mezzo lanciandogli contro alcuni oggetti, tra cui fumogeni, uno dei quali ha rotto il vetro di uno dei tre mezzi in transito. Un altro dei pullman è stato invece sfiorato dal lancio degli oggetti. Tanto spavento a bordo dei tre mezzi, ma nessun ferito. Su questi fatti sta indagando la polizia per individuare gli autori dell'agguato. In un post su Facebook la Recanatese denuncia l'accaduto. Quello che è avvenuto, si legge, in autostrada ha messo a rischio i nostri bambini. Poteva finire in tragedia se solo la bomba a carta avesse raggiunto l'autista e poi ancora non sarà facile trovare le parole per difendere uno sport che non è più uno sport. Le parole non servono, la follia e la violenza si fermano con i fatti. Rivediamo anche il commento di questo clamoroso derby che ha portato la salvezza per la Vis che resta in cima alla delusione della Recanatese e retrocessa in D. Incredibile salvezza per la Vis Pesaro a scapito di una Recanatese a cui va dato l'onore delle armi, non tanto per il gol vittoria di Pucciarelli giunto al quinto di recupero che ha fatto esplodere i 2700 cuori biancorossi del Benelli, quanto perché mai si era vista una gara da dentro o fuori in cui è successo tutto e il suo contrario. Per la gioia dei pesaresi e la disperazione della Recanatese, a cui non sono bastate le tre reti di un sontuoso sbaffo per mantenere un pari che l'avrebbe salvata. Sbaffo che sfiora il gol di testa già al terzo su cross di Raimo, ma Filippo Neri è sontuoso. In barba ai tatticismi, la Vis ha la chance di azzerare lo 0-1 dell'andata in un minuto, dopo con Molina che salta ferrante ma spara contro la sagoma di Meli. Sul prosiego Mattioli pennella per Nicastro che solissimo di testa non inquadra. Il vandaggio interno del 9 arriva comunque a metà tempo con una girata sporca facilitata da sponda aerea di Rossetti. Oltre due minuti per verificare la posizione dello stesso Nicastro, ma il VAR conferma che Longobardi lo tiene in gioco per questione di centimetri. È solo l'inizio di un pomeriggio di fuochi d'artificio che continua con Zagnoni, che salva sulla linea appena prima che la Recanatese non trova all'1-1, rigore conquistato da Carpani e realizzato da sbaffo. Vis comunque avanti al riposo sul colpo da biliardo di Pucciarelli, imbeccato dal bel pallone lavorato da Nicastro che però a inizio ripresa alza bandiera bianca. Gara tesissima in campo e sugli spalti, ripresa dagli ospiti sul secondo rigore di sbaffo a inizio secondo tempo, mano larga ingenua di Dapozzo. Filippi toglie Melchiorri, ma subisce il nuovo vantaggio Vis con Mattioli, che in due tempi supera Meli, il quale in un primo momento aveva respinto su Carlson. Si fa male anche il portiere Filippo Neri sulla magata da centrocampo di sbaffo, che va vicinissimo a un 3-3, che troverà però di lì a poco, con un colpo di testa perfetto a coronare un cross da sinistra di allievi. Il 10 ospite, scatenato per poco, non trova il poker Vis sull'orro del baratro, ma tutto cambia al 95esimo sul diagonale di Pucciarelli, che mantiene Pesaro in paradiso e manda in Dì la re canatese. Nel magazzino di un corriere espresso all'interno di cinque colli in giacenza, in attesa di essere consegnate al destinatario, i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Mar, che hanno rivenuto e sequestrato oltre 55 kg di marijuana, di cui la società di spedizione era ignara. È stato invece individuato e denunciato il destinatario dei pacchi contenenti la droga. Aumentano le famiglie a rischio sfratto in Italia, una storia arriva ad Ancona all'appello dell'Associazione Asia USB, aiutateci a trovare una nuova casa per questa famiglia. Il dramma, la paura e la confusione di Khalif Ardui, cittadino italiano nato in Tunisia, che vive in Italia, ad Ancona, da oltre 20 anni, insieme alla sua famiglia, la moglie e i due bimbi di 5 e 7 anni. Un uomo che ha sempre lavorato con un'attività improprio e che, soprattutto, ha sempre pagato l'affitto con puntualità. Questo, almeno, fino al Covid. Sono bastati pochi mesi di ritardo durante la pandemia, quando Khalifa, non lavorando, si è ritrovato in difficoltà economiche ad innescare l'azione legale da parte del proprietario dell'appartamento in cui vive insieme alla sua famiglia. Nonostante gli arretrati siano stati saldati in seguito dalla famiglia, lo sfratto è andato avanti, divenendo esecutivo e a nulla è valso l'interessamento finale nella vicenda dell'Asia USB, associazione inquilini e abitanti di Ancona. La sua morosità, che era dovuta dal Covid, è stata sanata per intero e lo sfratto che viene applicato per morosità e per alcune spese legali collegate al processo e alla sentenza di questo sfratto. Qualcosa di vergognoso, perché stiamo parlando di poche centinaia di euro che si poteva risolvere giustamente in un altro modo. Khalifa, come molti, prima e dopo di lui, secondo il Viminale nel 2022 gli sfratti in Italia sono cresciuti del 218%, così come le richieste aumentate del 199%. 42.000 i provvedimenti emessi nel nostro paese, 99.000 le richieste di esecuzione, 30.300 gli sfratti eseguiti nel 2022. Ogni giorno nel nostro paese 150 famiglie finiscono per strada. Khalifa questa volta è riuscito a scamparla, un piccolo miracolo ha evitato il peggio. Lo sfratto previsto per venerdì scorso è stato rimandato al 25 ottobre, giorni e mesi preziosi per la famiglia di Khalifa per riuscire a trovare una nuova casa. Faccio un appello a chi ha la possibilità di dare una casa in affitto per questa famiglia. Questa famiglia è in grado di pagare un affitto onesto, ha la capacità economica di pagare un affitto onesto costantemente tutti i mesi. Si è celebrata al Teatro Don Bosco di Macerata la giornata conclusiva dell'edizione territoriale di Eureka Funziona, progetto nazionale di federe meccanica cui Confindustria Macerata aderisce. Abbiamo pensato di creare un gioco che possa mettere in relazione la conoscenza del sistema solare e il divertimento. Abbiamo lasciato da parte tutti i litici che si erano creati durante l'anno. Più che altro questa esperienza è riuscita a creare un'unione all'interno della classe perché collaborando... Nora e Maria Stella sono solo due dei oltre 300 studenti che hanno partecipato all'edizione 2023-2024 di Eureka. Funziona il progetto di orientamento ed educazione all'imprenditorialità promosso da Federe Meccanica in accordo con il MIUR e a cui Confindustria Macerata aderisce da tanti anni. Al Teatro Don Bosco, proprio di Macerata, la giornata conclusiva di una vera e propria competizione con gli studenti che hanno avuto il compito nel corso dell'anno scolastico di ideare, progettare e costruire un giocattolo. Chi ha la possibilità di far da costruttore, chi da pubblicitario, quindi realizzare tutta quella che è la campagna di comunicazione del prodotto, chi la parte creativa e così via. Questo mette un po' un seme in ciascuno di loro per quello che riguarda lo sviluppo delle loro competenze, delle loro passioni e anche un germe di imprenditorialità che speriamo possa fiorire. E proprio sulla tematica del gruppo ascoltiamo due docenti che hanno vissuto il progetto in prima persona. Sono scesi nei vari ruoli, hanno collaborato, hanno sperimentato anche le frustrazioni perché alcuni giochi non funzionavano, perché l'idea all'inizio non veniva, oppure c'erano tante idee ma non si riuscivano a concretizzare. Tutti i gruppi all'interno della classe hanno prodotto delle cose diverse tra di loro e questo è stato molto soddisfacente per tutti perché non si sono copiati le idee, tra virgolette. E spesso molti imprenditori sono nascosti, quei talenti che non vengono fuori nel percorso scolastico standard in questa attività veramente trovano sfogo. Chiudiamo ricordando i vincitori. Per la scuola primaria ha vinto la Giovanni Ginobili di Petriolo mentre per le secondarie di primo grado vincitrice è stata la Lorenzo Lotto di Monte San Giusto. E ci fermiamo, questa era la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.